Sì, perché Ferrari è una delle, a mio giudizio, poche note positive di questa partita. Hai lottato, hai segnato il gol, hai anche reclamato un altro calcio di rigore, però non è arrivata la vittoria. Eh, lo so, ti dico, ci dispiace, come ho detto prima, il gol, quelle robe vengono dopo queste cose come succede nella partita. Preferisco, come l'ho detto prima, vincere, star sereno con la squadra. Purtroppo ci è capitato male un altro episodio mancando cinque minuti, quindi niente, siamo molto dispiaciuti più che altro. Hai chiesto tu il cambio perché eri stanco oppure è stata una sostituzione tattica? No, no, penso sia tattica perché non ho chiesto niente. Migliori in campo fino a quel momento. Grazie. Ti sorpreso la sostituzione. No, no, grazie, no, no, non ho chiesto niente, stavo bene. Sono certo, quindi, come ho sempre detto, accetto qualsiasi cosa. Anche giocare prima, uscire, non è un problema. So che quelli che entrano sono nello stesso livello che quello che esce. Il Presidente ha detto ai nostri microfoni che nel secondo tempo c'era un altro netto calcio di rigore su di te. Ci puoi raccontare? Eh, c'era un calcio di rigore che ti dico, penso che era un fallo più netto quello lì che il fallo che mi hanno finito nel primo tempo. Ho spostato palla, quello mi ha preso in pieno senza vedere palla niente. Sono episodi che anche lì non so come non fanno a fischiare. Che ti cambia la partita un'altra volta perché penso che se tu mi dici che è in dubbio, ma mi ha preso in pieno senza prendere palla proprio, la palla è andata da un lato e io da un altro. Ti dico, mi dispiace perché anche lì poteva cambiare tutta la partita con un episodio piccolo, perché un rigore ti cambia la partita. Quindi ti dico, ci dispiace, come ho già detto di là, noi ci stiamo provando al meglio. Ho visto, penso, un pescara un pochino più aggressivo del solito. Non ci gira bene, stiamo provando in tutti i modi purtroppo. Come si prova a ricuscire dalla testa della classifica perché si comincia a allontanare? No, no, lo so, lo so. Quello è una cosa che pesa, ma penso che non dobbiamo mai perdere le speranze. Ho vissuto anche l'anno scorso a meno 12 punti e dicevano, guarda, è impossibile, impossibile. Alla fine, estando lì, però non si deve molare niente perché se appena moli sei proprio morto. Quindi non dobbiamo molare proprio niente. Ringraziare, come ho detto prima, la tifoseria che praticamente, come ho detto prima, ho visto gente che perde due o tre partite e non c'è nessuno. E qua al contrario, era tutto pieno, quindi vuol dire che sono con noi. Siamo in debito, quindi ora dobbiamo tirare fuori tutte le forze e vincere, basta, non c'è altro.